Ok, benvenuti, bentornati su Radio Design, qui siamo nel Listone Giordano Arena, siamo qui con Marco Tortoglioli Ricci, Art Director di Listone Giordano dell'Agenzia Bicipiti, benvenuto. Sì, grazie. Intanto sappiamo che è stato fatto tutto molto velocemente, in un mese è nato questo spazio, però un ottimo lavoro da parte anche di tutte le opinioni che abbiamo raccolto in questi giorni. Da dove parte l'ispirazione? Sappiamo che questo luogo è un luogo storico di Milano. Parte proprio dalla conoscenza del luogo, perché quello che cercavamo, e questo era da un po' di tempo che tentavamo di farlo, era finalmente un flagship store per Listone Giordano a Milano, in una città che per noi è determinante, ma che fino a questo momento non aveva punti vendita diretti che potessero raccontare la filosofia che sta dietro quel marchio. Finalmente, tra i vari tentativi di ricerca, siamo incappati in questo spazio qua, che era fino all'anno scorso lo showroom di un noto marchio dell'illuminotecnica italiano, ma soprattutto ricercando un po' quello che era questo posto alle origini, è venuto fuori essere, quando ancora qua fuori in via San Damiano c'era un naviglio funzionante, era un ristorante conosciuto, un caffè, insomma, d'inizio secolo, addirittura con arredi e decorazioni progettate da Gioponti, che si chiamava La Penna d'Oca, perché? Perché in questo posto si riunivano scrittori, giornalisti, intellettuali, letterati, ma anche poi artisti, grafici, i primi protopubblicitari, cartellonisti, insomma, come si chiamano, e questo devo dire che per noi è stato motivo di grande interesse, di grande ispirazione, perché abbiamo capito che in sostanza quello che noi intendevamo, e cioè di creare un punto vendita che non fosse solo un luogo di vendita, ma che fosse anche e forse di più un luogo per incontrare le persone o perché le persone si potessero incontrare, venire qui e discutere, lavorare, in nome di quello che oggi un brand deve avere, cioè sviluppare una piattaforma culturale condivisa, insomma, e quindi capire qual è la propria visione del mondo e, come la si intende, far diventare la propria proposta di prodotto, di servizio, anche di bellezza, viene da dire, una sorta di patto culturale col mercato. Oggi per il mercato c'è bisogno di riuscire ad eleggere i propri riferimenti, i propri modelli, i propri paradigmi, che sono marchi, sono prodotti, ma che si vuole sostenere perché rappresentano una cosa che io condivido come consumatore, con l'utente, quindi questo è il luogo che, pensiamo, ci permette di farlo. Mi ho detto anche che qui è partito il futurismo, con Marinetti. Allora, sì, è in quella Milano lì, quindi non solo in questo posto, ma è sicuramente questo, uno di quei posti in cui i futuristi hanno cominciato a interpretare la propria volontà anche di rompente, tant'è che il nome Arena ci è sembrato convincente da affiancare all'istone Giordano perché storicamente l'Arena nasce come il luogo del gioco, della sfida, della battaglia, ma allo stesso tempo come luogo dell'intrattenimento. Nell'antica Roma si giocava anche fino alla morte, ma per intrattenere un pubblico. E quindi, quello che hanno fatto i futuristi è poi trasformare le loro arene in luoghi della performance, della provocazione, della sfida, della volontà di rompente, di raccontare delle cose. Con la poesia l'hanno fatto col paroliberismo, con l'arte, con la tipografia. Non ci dimentichiamo che De Pero è stato uno dei primi artisti prestati al mondo della comunicazione, al fatto che da lui viene anche il disegno della bottiglietta di Campari, che i primi manifesti esposti in una Milano in grande formato sono dovuti a lui, alla volontà di, con la pubblicità, di portare l'arte nelle strade, tra la gente, quindi con una dimensione provocatoriamente popolare, quando fino a quel momento l'arte era un fatto dell'It. Dicevi prima che a livello di corporate identity questo rappresenta un po' uno spin-off rispetto alla linea, diciamo, principale del brand dell'Istone Giordano. Sì, sì, l'Istone Giordano è un brand system che ormai dal 2015 ha, come dire, vissuto e si è evoluto nella sua seconda generazione. Il progetto di Istone Giordano nasce in realtà molto prima, nasce nel 1996, ha avuto una lunghissima stagione di grande successo, ma nel 2015 con il progetto del nuovo layout punti vendita e dell'aggiornamento del brand system ha vissuto una seconda generazione, molto più vicina a raccontare il mondo che sta dietro al marchio. Detto questo, quando hai l'occasione di poter lavorare in un luogo che ha una forte identità propria, che sta in una città che è fortemente paradigmatica dal punto di vista del design, abbiamo capito che era il momento di inaugurare quello che per molti grandi brand è già un'abitudine, cioè di avere delle avventure spin-off rispetto alla piattaforma di branding principale, che sia più specifica e quindi quello che succede qua dentro è che il marchio Istone Giordano, il brand Istone Giordano diventa un mondo fatto da una galleria di immagini che ha come riferimento le avanguardie, che ha come riferimento i primi movimenti dei cartoglionisti d'inizio del Novecento italiani e che produce una sorta di imagerie de pinale d'avanguardia in sostanza, quindi una collezione che muterà in modo continuo, incessante. Devo dire che se io non avessi lo studio che ho alle spalle con un gruppo di ragazzi super talentuosi che ha grande entusiasmo, Francesco che è un po' l'art director che guida le operazioni creative ma con un entusiasmo collettivo che ci permette anche di buttarci in avventure che poi hanno poco tempo perché adesso io te lo posso dire ma fino a due settimane prima dell'inaugurazione l'identità visiva di Storio Giordano Arena non esisteva. Ma infatti è stato fatto tutto molto velocemente, quindi immagino il delirio in agenzia. E quindi insomma è stata veramente una corsa collettiva per riuscire a produrre qualcosa che fosse riconoscibile, forse fortemente identificabile, perché abbiamo capito che in questo caso l'identità visiva al pari di altri atti progettuali che in questo posto coesistono diventa un asset centrale perché parla alla città, cioè parla alla città di questo luogo. Certo. Parliamo in generale invece di design, è la design week, quindi ti volevo chiedere quali sono i trend che tu hai notato, adesso ovviamente è appena iniziata la design week però se tu hai percepito un cambiamento, se come si respira un pochino quest'area di cambiamento che riguarda molto la sostenibilità e non so se secondo te questa opinione pubblica che muta nel tempo, muta anche poi la percezione del design e di come viene creato il design. Allora in generale ti dico che per tutto quello che riguarda il mondo, l'economia che è legata al design e poi provocatoriamente è stato quattro giorni fa Mario Bellini che diceva proprio attenzione perché tutta l'economia contemporanea sul design si basa sull'uso incondizionato di questa parola che è una parola che in realtà ha tante voci diverse, ha tante eccezioni diverse perché in realtà dovremmo tradurla come progetto, se noi la traducessimo dall'inglese in realtà oggi parla di molte altre cose e di molto di più. Quello che si vede oggi è che accanto al tema della sostenibilità che tu dicevi c'è un'altra parola chiave che è autenticità. Quello che succede è che oggi non si può più fare design semplicemente volendo esteticamente vestire qualcosa, cioè non ci può essere più solo un design estetico, non è più quell'idea del design che rendeva belle le cose o esclusive o costose. Oggi il design è più che altro deve essere un impegno complessivo per un'azienda, cioè si può fare design se si pensa di agire in quell'ottica volendo raccontare delle cose. Altrimenti si può assoldare un bravo disegnatore ma non parlerà di te. E oggi il consumatore questo non tollera più. Oggi una manifestazione come questa, basta andare in giù per le strade, è una manifestazione in cui viene tutto il mondo, tutto il mondo viene perché oggi grazie a internet, grazie alle tecnologie, grazie a una sorta di grande networking globale le informazioni circolano e si va a cercare i racconti più credibili, non si va a cercare le cose necessariamente più originali ma i racconti credibili che hanno una proposta per il pianeta. Possiamo usare dicendo che ormai i brand devono essere partigiani in qualche modo. Se prima il brand doveva rimanere autonomo, un pochino flat, adesso invece deve abbracciare un'idea, un impegno che riguarda qualcosa. No, no, ma io devo dire che visto che parlavamo di maestri prima io faccio riferimento a un altro maestro che è Enzo Mari che è uno dei grandi nomi che ha segnato il dopoguerra italiano e il design degli anni 60, 70 fino agli anni 80 e lui era una persona che dice non si può fare un design non politico. Certo. Cioè il design è politico per sua stessa natura se alla parola politica, al termine politica diamo un'accezione che è quello giusta, cioè del suo valore più alto che è quello del governo della comunità e quindi non esiste un design che non abbia una proposta di governo della comunità perché oggi qualsiasi progetto di design deve anche capire che relazioni vuole stabilire con i propri utenti e gli utenti eleggerlo a proprio modello. Bene, è stato molto interessante, io adesso farei altre mille domande però poi ci dilunghiamo tantissimo, quindi grazie mille e alla prossima intervista. Grazie, grazie a voi.